Dedico questo video alla mia studentessa Alice che ha chiesto a me e agli insegnanti del nostro consiglio di classe perché abbiamo scelto l'insegnamento come professione. Allora io credo si sia capito che sono totalmente innamorata della storia dell'arte quindi per me insegnare è stata la scelta naturale per poter vivere in mezzo all'arte. Avere la scusa per andare a girare mostre e musei del mondo non è fantastico. Pensate mentre molte altre persone devono andare a lavorare andare in ufficio e avere a che fare con documenti, carte, contratti, conteggi io invece mi devo occupare di Michelangelo, di Raffaello, di Giotto, di arte delle avanguardie insomma sono privilegiata in questo senso. Ho scelto di insegnare perché adoro raccontare storie anche questo credo che si sia capito l'arte permette di raccontare tantissimo e ha tantissimo da insegnare non soltanto per appunto le opere in sé, gli artisti in sé ma per tutti i temi che permette di affrontare in modo, i temi che sono vitali per noi. Ho scelto di insegnare perché adoro il rapporto con i ragazzi. Mi piace nel mio piccolo sentirmi un po' utile. Prima facevo un mestiere apparentemente più raffinato, più privilegiato perché facevo la copywriter in agenzia pubblicitaria. Ci sono meno copy e molti più insegnanti per intenderci. Però lavoravo tantissimo, era un ambiente bello, stimolantissimo, tutte le novità passavano prima dalle agenzie pubblicitarie e poi noi le captavamo, le mettevamo in quello che facevamo, però mi sentivo che mi mancava qualcosa e questo qualcosa era appunto sentirmi vagamente utile per qualcuno. È una verità, non so se ci sono riuscita, se ci riesco, però il lavoro con i ragazzi è molto bello perché mi permette di dimostrargli che in qualche modo ci sono, che li vedo, che non sono soltanto numeri, anzi sono nomi, per me non cognomi perché io i cognomi si sa che non li imparo, però l'idea che ci sia qualcuno che un pochettino si accorge di loro, per quanto poco io possa fare, però insomma io e il mio team di lavoro, appunto gli artisti, Van Gogh, Gauguin, Giotto e Brunelleschi sono tutti al mio fianco per lavorare con loro, ecco questo secondo me è veramente molto importante. Ho scelto di fare l'insegnante in questo momento perché è quello che mi rende felice e un modello da proporre ai ragazzi di felicità è secondo me fondamentale e ho scelto di fare l'insegnante perché, si sa, è il mestiere più bello del mondo.